ecco qui una scatolina per bijoux in legno proviamo a pirografarla prima di tutto ho fatto il disegno a matita sul coperchio è una scatoletta che può contenere dei bijoux degli anelli un regalino faccio una prova su una tavoletta di legno di scarto sto usando una punta piatta un po' inclinata il legno è abbastanza dolce quindi non è necessaria una temperatura particolarmente alta e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.